Il calco originale del busto in bronzo che raffigura il pittore Giuseppe De Nittis, realizzato dallo scultore di Molfetta Giulio Cozzoli nel 1934 e sistemato a barletta nei giardini intitolati alla memoria dell'artista simbolo dell'impressionismo italiano. Tornato a nuova vita è adesso all'ingresso delle sale al primo piano di Palazzo della Marra che ospite il nuovo allestimento Rileggere De Nittis oggi. L'intervento di restauro affidato alla cooperativa a Mures ha ricevuto l'ok dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. È stato un intervento di pulitura che abbiamo fatto senza usare solventi ma in modo meccanico con dei micromotori con delle spazio con un pelo di capra molto molto leggere e abbiamo dovuto diciamo rimperneare questi pezzi per riattaccarli diciamo alla scultura la mano e i pennelli con delle barrette in acciaio sagomate. Poi abbiamo dovuto ricostruire alcune parti della scultura perché mancavano con del gesso con gesso di Bologna e poi la cosa importante c'era una forte caduta di colore e quindi abbiamo dovuto recuperare dal punto di vista pittorico l'opera per dare uniformità tutta diciamola alla scultura attraverso un ritocco a corpo sul gruppo scultore e poi abbiamo dovuto dare un protettivo alla scultura e quindi per dare la possibilità poi di conservarla nel tempo.